Siamo con Interbrau, con Sandro Vecchiato, una presenza immancabile a Rimini. 28 anni, 28esimo anno che facciamo la fiera di Rimini. Onestamente abbiamo avuto uno stop and go di due anni, cioè i due anni trascorsi non eravamo come Interbrau presenti, ma eravamo come due birrifici invece che si presentavano. Però il palcoscenico di Rimini sta tornando dove si merita e dove è sempre stato. Che novità avete presentato qui in fiera? In fiera abbiamo presentato due classici, due grandi classici, perché sostanzialmente è una garanzia verso il futuro. Staropramen, vecchia Praga, con tre loro birre. Normalmente in Italia era sempre arrivata la loro premium, mentre adesso c'è anche la non filtrata e c'è anche la Granad, cioè una vecchia birra di Praga. E vicino a Staropramen un altro grande classico del mondo invece americano, un classico anche dal punto di vista qualitativo, perché si rifà i modelli di una blanche americana che è Blue Moon. Tradizione quindi in un mondo della birra che va verso anche alcune tendenze nuove e anche una riscoperta delle tradizioni. Ma la tradizione lo dice la parola, non tramonterà mai. Cioè pensate quando vediamo su certe etichette l'anno di fondazione, 1328, 1666, sono sempre esistite, dalla notte dei tempi esisteranno ancora. Voi avete un focus anche sul mercato, sui consumi in Italia? Certo, i consumi in Italia sono stabili, ormai sono dieci anni che sono stabili, difficilmente potranno salire vista la situazione che stiamo attraversando, però all'interno di questi 30 litri pro capite il mercato si sposta, sta scegliendo il meglio, sta premiando chi fa le cose bene, chi produce bene, con costanza, con qualità, al prezzo giusto. Grazie, buona fiera. Buona fiera anche a tutti voi, grazie. Grazie.